I pareri sono contrari. Montroni. Giuliani. Zanna. Bene. Allora, Sbrollini. Ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli, 31. Contrari, 322. La Camera respinge. Ora siamo all'articolo 1, colleghi. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Allora, questa è la messa. Sì, è la messa. Allora, questa è la messa. Allora, questa è la messa. Ci siamo. C'è la Scudera che sta scimando. Scudera. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli, 271. Contrari, 67. La Camera approva. Adesso, direttamente passiamo all'articolo 2, perché gli altri emendamenti non sono segnalati. Dunque, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 2. Formisano, Malisani, Stella Bianchi. Ecco, votato. No, Bianchi ancora no. Eccola. Nicchi. Votato. Bene. Ci siamo tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli, 273. Contrari, 72. La Camera approva. Va bene, colleghi. Allora, adesso, questo era l'ultimo. Mi dispiace. L'ho vista troppo tardi, se no avrei revocato. Allora, passiamo agli ordini del giorno. Allora, se nessuno vuole intervenire, colleghi, sugli ordini del giorno, invito a rappresentare...